? 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 Fiori la masazza? Depilazione d'ambe linguine è giusto? Brucia, brucia, brucia! Ma non ho ancora fatto niente! Ah ok No, non ce la faccio È occupato Come la vuole? Classica? Integrale? Alla francese? All'americana? Oppure alla brasiliana? Ma alla Beyoncé si può fare? The Tiffany Box si ottiene con la depilazione e poi con la rifinitura della zona inguinale creando la forma di un astuccio da gioielli che poi viene tinto nella classica tonalità blu del notto marchio Figo Scusami ma non potrò uscire stasera È morto mio nonno No, non quelli già morti, un altro Eh, mi dispiace vagina Movist �유 No, non conosco Ah ah which one Ah 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 a marko, 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 marko Amor! Mi parte il mio gasoio, per favore! l'ho trovato sei serio? per il mio compleanno mi regali un epilatore è uno di quelli che toglie le pelli definitivamente è un regalo bellissimo ehi, you don't try lying to me cos'your eyes are talking to me è un regalo bellissimo ormai